Tante storie, tanto che il titolo stesso deriva dal fatto che un giorno in cui stavo facendo ordine sui testi perché li stavo scrivendo sul computer, li stavo togliendo dai fogli nei quali erano stati scritti li stavo mettendo un po' in ordine sul computer per spedirli, per stampare il disco e rileggendoli mi sono reso conto che la parola storia era presente in ogni canzone fondamentalmente lì per lì ci sono anche rimasto male perché non mi sembrava un'eccessiva, ridondante ripetizione dello stesso termine poi invece ho pensato che forse era proprio una caratteristica nel senso che era un momento in cui fare un po' di ordine rispetto al passato e raccontare una serie di cambiamenti perché il senso è sempre lo stesso dei nostri dischi, da quel punto di vista forse sono noiosi ma credo che lo siano un po' tutti i dischi del mondo è il racconto delle nostre vite, della mia vita in particolare o delle nostre vite nei due anni precedenti nelle quali tu vivi, pensi e poi quella cosa diventa un disco in questo caso ho raccontato nuovamente questa cosa solo che le nostre vite stanno cambiando molto rapidamente perché i figli, un modo diverso di vedere anche lo stesso approccio nostro con la musica i rapporti con la band, insomma sono successe tante cose che adesso sono dentro quel disco da un punto di vista musicale negli ultimi album dei Velvet avevamo percorso un territorio che aveva portato in un ambito elettronico, qui l'elettronica la ritroviamo però in realtà è un disco forse meno elettronico delle vostre cose precedenti secondo me sì, anche se il nostro intento iniziale era quello di aumentare la dose di elettronica poi quando abbiamo iniziato a registrare è bastato poco e ci siamo ritrovati invece pieni di chitarre e con la voglia abbiamo riscoperto la voglia di suonare tante chitarre in un disco poi ci sono molte chitarre acustiche anzi anche se a volte si sentono e non si sentono abbiamo usato molto con finalità ritmiche insomma abbiamo cercato di mescolare suoni di legno veri, reali e anche l'elettronica è molto suonata con tanto di, ci sono insomma anche piccole sbavature e poi a livello produttivo invece abbiamo utilizzato molto la tecnologia però diciamo che è un disco meno elettronico del passato sicuramente Quanto tempo per scrivere e quanto invece per produrre? cioè in percentuale? Poco? Tantissimo nel senso che la parte musicale l'abbiamo scritta in un paio di session almeno io personalmente c'è stato un periodo in cui avevo proprio voglia di andare nuovamente a scrivere della musica ma risale a più di un anno fa andavo la sera quando lo studio era vuoto il nostro studio era deserto gli altri erano tornati a casa io facevo i turni inversi mi mettevo in studio da solo prendevo un campionamento ritmico da una canzone di chiunque aprivo il computer, prendevo una batteria, la mettevo lì e ci iniziavo a giocare registrando sopra delle parti musicali melodia senza testo, così in inglese fasullo però fatte bene con i cori insomma sviluppavo la parte armonica poi è rimasta dentro al computer per molti mesi a un certo punto l'abbiamo ritirata fuori abbiamo lavorato a quel punto tutti insieme abbiamo espanso le strutture delle canzoni testi invece come al solito sono arrivati tutti alla fine quando le canzoni erano quasi pronte proprio per quel procedimento che ti dicevo prima ho finito di vivere un po' di cose che volevo raccontare e poi le ho raccontate nel disco e non da solo perché poi ci sono anche degli ospiti come per esempio Federico Dragogna dei Ministri proprio in una vita diversa che invece mi ha aiutato sul testo della canzone quei consigli che in qualche modo l'ha proprio scritto perché la canzone esisteva con un testo in inglese in quel caso era proprio una canzone in inglese finita ma senza nessuna voglia di pubblicarla in inglese solo ci serviva per metterla lì però il testo era vero different life no 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 aveva un altro testo non parlava di quello e glielo ho mandata insomma ci siamo sentiti gli ho chiesto se avesse voglia di darci una mano su questo disco dicendo guarda la canzone è finita io te la manderò cantata e anche non cantata poi fai tu quello che vuoi se vuoi cambiare delle cose intanto proviamoci nessuno si offenda se poi non dovessimo trovarci d'accordo e pace e lui sono stato felice perché era preso benissimo da questa cosa tra l'altro confessando che comunque quando i velvet erano fuori i ministri stavano cercando di essere fuori noi eravamo fra i gruppi che loro volevano di riferimento diciamo di riferimento nel senso magari non del tutto stilisticamente però come concetto come modo di gestire la band insomma siamo molto simili poi ho scoperto nell'attitudine e così come per noi potevano essere i subsonica gli after hours noi guardavamo loro su MTV e dicevamo ma speriamo di firmare sto contratto le generazioni si tramandano abbiamo lavorato bene insieme lui ha fatto dei piccoli cambiamenti è stato molto rispettoso dicendo io ci ho provato se però non ti piace tornavi indietro in realtà buona la prima buona la prima si ha dato un paio di suggerimenti interessanti tra gli ospiti anche Fabrizio Bost con Fabrizio com'è andata? venuto in studio da voi? venuto in studio da noi perché ha iniziato a frequentarsi con Giancarlo il nostro batterista insomma si vedono abbastanza spesso si sono visti spesso e chiacchierando Giancarlo gli ha raccontato il fatto che stavamo registrando il disco e lui ha chiesto di fai ad ascoltare perché magari c'è qualcosa se c'è qualcosa che penso di poter arricchire in qualche maniera magari vengo in studio e ci registro sopra il che uno tende a dimenticarsi perché frequenti una persona e diventa normale però a livello artistico Fabrizio Bost è un capo è un talento smisurato è una delle troppe più importanti in Italia in Italia e poi riconosciuto a livello internazionale capito e quindi e noi gli abbiamo detto ma ci mancherebbe vieni quando vuoi tu ci dici quando ci sei e noi ti facciamo trovare lo studio pronto il comitato d'accoglienza il comitato d'accoglienza è venuto ha scelto lui di suonare su quel brano non c'è stato e qua c'è un piccolissimo aneddoto aneddoto veloce il brano era finito era praticamente mixato più più ed era pieno di strumenti per cui sinceramente quando lui è arrivato voglio suonare quel brano si è messo a suonare a me proprio quello ci mancava pure la tromba no ma figurati piuttosto come abbiamo fatto ho tolto la mia voce sulla fine abbiamo fatto spazio però non ero convinto che servisse una tromba in quel brano e dentro di me nella testa scorreva la cosa come glielo dico come facciamo perché non si può fare è stato scorretto speriamo 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 che lo sento suonare ha piazzato quattro take in fila fantastiche per cui ho detto stupido tu ad averlo pensato che uno di quel talento potesse non inserirsi in una canzone quindi è stato poi semplice abbiamo solo sistemato ma davvero un'esecuzione di livello altissimo è come giocare a calcio con un grande calciatore esatto anche in questo caso senza citare fare dei riferimenti scegliete voi una maglia un calciatore normale vicino a un campione rende di più assolutamente è quello che è successo parliamo di tennis quando giochi contro uno più forte sei più forte ti ricordi anche tu perché ti tira la palla talmente bene diciamo che il talento sorprende quando lo incontri sorprende sempre molto ci sono anche i video che girano ho visto sì ci sono dei video che girano abbiamo fatto una scelta diversa questa volta secondo noi non è più il caso di investire molti soldi sui videoclip perché è proprio cambiata la fruizione del pubblico il videoclip serve ancora infatti la moda di questi lyric video ha un senso invece di mettere l'immagine fissa della copertina qualcuno ha pensato lasciamo scorrere le parole almeno comunque uno ascolta su youtube e impara la canzone può fare anche il karaoke no e comunque c'è qualcosa che ti interessa non è proprio un'immagine fissa noi abbiamo cercato un po' di evolvere ancora questo discorso cioè facciamo un lyric video però con delle immagini un po' più evolute solo delle parole che scorrono e questo è stato un po' il concetto dietro ai due videoclip adesso poi non è escluso che in futuro magari proprio per scrivermi quello che fai non realizzeremo un videoclip fatto bene però è un po' un peccato ultimamente vedere che le televisioni musicali non hanno più nessun impatto sui ragazzi non le guardano proprio più e non le guardiamo più nemmeno noi quindi non ha senso rivolgersi alla tv linguaggio sulla rete deve avere caratteristiche diverse e paradossalmente noi quei due video li abbiamo messi comunque su repubblica.it cioè vanno lo stesso anche dei video prima per andare su quei canali così grandi dovevi spendere 20.000 euro per fare un video oggi ci vai pure con poche centinaia di euro ma con un immaginale tante quindi la nostra scelta è fare magari più video un video per ogni canzone dividendo quel budget che abbiamo a disposizione per più cose abbiamo fatto un concerto di prova a Monte Rotondo dove abitiamo dove abbiamo lo studio sì sì c'è un pub che contiene 115 persone abbiamo chiesto ci fai venire a suonare però non lo dire perché poi abbiamo un concerto vero cioè poi non è un abbiamo montato gli strumenti gli abbiamo solo chiesto tu affitta un minimo noi non vogliamo soldi niente affitta un minimo di materiale per poterci permettere di fare delle prove e poi diciamolo agli amici tu dillo ai tuoi amici dentro quindi c'era super pieno ovviamente era piccolo passaparola a Monte Rotondo funziona una cosa britannica proprio col sudore sul palco però è stato bello perché siamo messi alla prova abbiamo messo alla prova la scaletta ed ha funzionato bene ci sarà sarà un po' più duro del solito nel senso c'è una lunga parte bella movimentata senza poche parole molto beat quindi con chiaramente mettere su una scaletta quando si hanno di fronte 6-7 dischi e oltre 10 anni di carriera è stato un po' più difficile però ci siamo potuti togliere una soddisfazione nel senso abbiamo fatto un discorso suoneremo molto del disco nuovo ovviamente e poi abbiamo visto che abbiamo comunque un buon numero di hit da posizionare nella scaletta quindi per una volta potremo fare un bis pieno di singoli cioè quelle cose da band vecchie ormai arrivate dai succederà qualcosa poi durante il concerto verrà ripreso registrato verrà registrato lo registreremo video e audio perché poi insieme a Deezer con la piattaforma di streaming con la quale stiamo facendo ci stanno supportando molto nell'uscita del disco metteremo online proprio il concerto del circolo degli artisti sarà disponibile sulla piattaforma per tutti gli utenti di Deezer insomma in esclusiva per loro e anche su altri media quindi mettetevi il vestito giusto applaudite bene capito bisogna che il pubblico arrivi ben preparato ma soprattutto noi perché verrà immortalato quindi sarebbe il caso di suonare particolarmente bene ma è una cosa non mi preoccupa questa è una delle caratteristiche che avete affinato negli anni possiamo stare abbastanza tranquilli si può mettere la mano sul fuoco e poi un po' di emozione c'è perché è un po' che manchiamo del circolo in particolare e ci abbiamo fatto dei concerti epici per noi quindi cercheremo di davvero sentiamo un po' la pressione del fatto che lo registreremo e poi lo vedranno in molti di più di quelli che verranno al circolo che comunque saranno un buon numero e quindi insomma dobbiamo cercare di fare qualcosa di fatto bene per cui chiediamo anche il sostegno di chi ci sente questo sempre a proposito di storie sta a significare che anche dopo tanti anni di carriera dopo aver suonato tante volte l'emozione di salire su un palco presentare per la prima volta le canzoni c'è sempre quella sicuro guarda i primi 6 o 7 concerti di un tour sono sempre diversi dal resto perché ti rendi proprio conto che per quanto puoi essere bravo esperto quello che vuoi hai proprio bisogno di farle perché la scaletta diventi perfettamente rodata però in questo caso non si può fare del resto il nostro esordio avvenne sul palco di Sanremo quindi siamo abituati ad esordire in situazioni importanti a essere buttati in mare aperto e allora grazie ci vediamo sabato al circolo grazie a Pier grazie mille e in bocca al lupo per tutto ciao grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti